Proseguirà la campagna di scavi già avviata nella zona del teatro, un modo per valorizzare l'area archeologica di Alesar con idea di Tusa. Giovedì 27 maggio alle ore 10, presso il sito di Contrada Santa Maria delle Palate, alla presenza dell'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, verrà sottoscritta la convenzione tra il Parco archeologico di Tindari, l'Università di Amiens e il Comune di Tusa per la prosecuzione della campagna di scavi. Verrà anche siglato l'accordo di gestione integrata tra il Parco archeologico di Tindari e il Comune di Tusa per una maggiore condivisione nelle azioni di valorizzazione dell'area archeologica di Alesar con idea. Per l'assessore regionale Alberto Samonà continua la primavera dell'archeologia, una rinascita degli scavi in tantissimi siti siciliani. Per Mimmo Targia, direttore del Parco archeologico di Tindari, l'incontro con il sindaco di Tusa Luigi Miceli per sottoscrivere il secondo accordo integrato di gestione e una buona prassi che restituisce il bene culturale al territorio per ampliarne quella centralità rispetto alla progettazione dell'offerta turistico-culturale che fino ad oggi è mancata. Un accordo che verrà allargato anche agli altri comuni del Parco e che diventa essenziale per costruire momenti di pianificazione strategica condivisi. Tra gli obiettivi di questo accordo di collaborazione è sensibilizzare operatori e cittadini nella valorizzazione e nelle migliore utilizzazioni del patrimonio regionale.